Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, Amen, Gesù ti amo con la tua volontà, vieni Divina Volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti, per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regine Immacolata, Celeste Madre Mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con i spiriti più ardenti che mi ammetta a vivere nel Regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso, affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel Regno del Volere Divino, e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà, affinché me la scambi con la Divina Volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal Regno Suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa Volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Oh mio Signore, Cristo Gesù, venga il tuo regno, venga il tuo regno. Venga il tuo regno, Cristo Gesù, venga il tuo regno, mi fondo in te. Mi fondo in te, oh mio Signore, oh mio Signore, per adorarti nel tuo volere. Emanuele, 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 Cristo Gesù, venga il tuo regno, venga il tuo regno. Venga il tuo regno, Cristo Gesù, venga il tuo regno, nel tuo volere. Emanuele, oh mio Signore, oh mio Signore, non sono io, più che Dio, ma tu capisci di me. Dal Libro di Cielo, volume VI, capitolo 126, 22 agosto 1905. Trovandomi nel solito mio stato, quando appena è venuto il mio torampire Gesù e mi ha trasportato fuori di me stessa e mi partecipava alle sue sofferenze e poi mi ha detto, Figlia mia, quando due persone si dividono insieme il peso di un lavoro, insieme dividono la mercede che hanno di quel lavoro e l'uno e l'altro possono far bene a chi vogliono con quella mercede. Onde, dividendo con me, tu il peso delle mie sofferenze, cioè il lavoro della mia redenzione, vieni a partecipare al guadagno del lavoro della redenzione. Ed essendo divisa tra me e te la mercede delle nostre pene, come io posso far bene a chi voglio in generale ed anche in modo speciale, così tu sei libera di far bene a chi vuoi della mercede che a te aspetta. Ecco il guadagno di chi divide con me le mie pene, che solo è concesso allo stato di vittima, e il guadagno di chi gli sta più da vicino, perché stando vicino più facilmente partecipano ai beni che uno possiede. Perciò, figlia mia, rallegrati quanto più ti partecipano alle mie pene, che più grande sarà l'aborsione della tua mercede. Capitolo 127, 23 agosto 1905 Continuando il mio solito stato, il mio benedetto Gesù mi ha detto Figlia mia, se l'anima fa tutto per me, imita quelle piccole farfalle che girano e rigirano intorno ad una fiamma, e rimangono estinte in quella stessa fiamma. Così l'anima, a seconda del profumo delle sue azioni, dei suoi movimenti e desideri che offre a me, Così, l'anima mi gira di intorno, ora agli occhi, ora al volto, ora alle mani, ora al cuore. A seconda delle diverse offerte che mi va facendo, e col suo continuo girare intorno a me, rimane tutta estinta nella fiamma del mio amore, senza toccare le fiamme del purgatorio. Poi è scomparso ed essendo ritornato, ha soggiunto. Il pensare a se stesso è lo stesso che uscire da Dio e ritornare a vivere in se stesso. Poi il pensare a se stesso non è mai virtù, ma sempre vizio fosse pure sotto aspetto di bene. Capitolo 128, 25 agosto 1905 Stamattina nel venire il benedetto Gesù mi ha detto, figlia mia, l'anima deve soggiornare nel mio cuore e le stesse virtù deve fare in modo che le radici stiano nel mio cuore e svolgerle nel cuore suo. Altrimenti ci può avere le virtù naturali oppure di simpatia, le quali si chiamano virtù a tempo e a circostanze e sono mutabili, mentre le virtù che la radice affissa nel mio cuore e svolta nell'anima sono stabili e si adattano a tutti i tempi e a tutte le circostanze e sono uguali per tutti. Invece quelle altre no. Ed avviene che si sentono una carità illimitata per una persona, ossia ad un tempo sono tutto fuoco, fanno dei veri sacrifici, vorrebbero mettere alla vita. Se ne presenta un'altra, si accorre più bisognoso della prima e in un momento si cambia la scena, si fanno di gelo, neppure non vogliono fare il sacrificio né di sentire né di dire una parola, sono svogliati. E la rimandano esacerbata, indispettita. E' forse questa carità che la radice affissa nel mio cuore? No, certo, è carità viziosa, tutta umana e di simpatia, che ad un momento pare che fiorisce e ad un altro momento secca e sparisce. Un'altra è obbediente ad una persona, sottomessa, umile, si fa un cencio, in modo che quella persona può farne ciò che vuole, ma ad un'altra è disobbediente, recalcitrante, superbia. E' questa obbedienza che esce dal mio cuore, che obbedia a tutti, fino agli stessi carnefici? No, certo. Un'altra è paziente in certe occasioni. Fossero pure sofferenze serie, pare un agnello che neppure apre la bocca per lamentarsi, ma ad un'altra sofferenza, forse pure più piccola, monta in furia, si irrita, impreca. E' questa forse la pazienza che la radice affissa nel mio cuore? No, certo. Un altro giorno è tutta fervorosa, prega sempre, fino a trasgredire i doveri del proprio Stato. Un altro giorno ho ricevuto un incontro un po' dispiacente, si sente fredda, abbandona la preghiera fino a trasgredire i doveri di una cristiana, cioè la preghiera è d'obbligo. E' forse lo spirito mio di preghiera questo, che giunzi fino a sudare sangue, a sentirmi l'agonia della morte, eppure non tralascei un solo momento alla preghiera. Ah no, certo. E' così di tutte le altre virtù. Solo le virtù che sono legate nel mio cuore ed innestate nell'anima sono stabili e fanno permanenza e risplendono piene di luce. Le altre, mentre compariscono virtù, sono vizi. Compariscono luce e sono tenebro. Detto ciò è scomparso e continuando a desiderarlo è ritornato dal soggiunto. L'anima che mi desidera sempre si imbeve di me continuamente ed io sentendomi imbevuto dall'anima, mi imbevo dell'anima in modo che dovunque mi volgo, la trovo con i suoi desideri e la tocco continuamente. qui oggi c'è davvero tanta roba e anche abbastanza forte su cui meditare. l'ultima parte del secondo capitolo e questo capolavoro, insomma, che è questo 128 ci portano dolorosamente, diciamo, dentro la verità di noi stessi e ci mettono nella verità, sicuramente, insomma. anche se in maniera un po' forte apparentemente impietosa, insomma, anche perché la conclusione che ne trae Gesù è virtù apparente ma in realtà è vizio addirittura. Ecco perché una delle cose più importanti, non mi stancherò mai di dirlo, insomma, del... penso anche la bellezza di questi scritti di Luisa è proprio una sua chiara spia, a mio avviso, della loro origine sopranaturale questa propria capacità di condurre l'anima che sinceramente vuole camminare ad una profonda introspezione e veramente ad una profonda messa di se stessa nella verità non è un problema se uno si dovesse trovare in queste condizioni cioè è un problema ma non è un problema nel senso che se lo si riconosce sinceramente dolorosamente che invocando l'aiuto del Signore perché si possano lettificare insomma queste pseudo virtù perché tali sono non c'è problema molto meglio questo che rimanere una vita sotto l'illusione spirituale che uno si pensa pure che è santo e invece non solo che non è neanche sulla via della santità non sta percorrendo la via contraria ecco questo deve sempre farci procedere con timore e trimore diciamo il primo capitolo che abbiamo ascoltato è fondamentalmente per Luisa e per coloro che condividono la sua del tutto singolare missione di stato di vittima no? quindi Gesù la porta a partecipare alle sue sofferenze perché? perché da quelle sofferenze possano ridondare dei grandi benefici su altre persone e Gesù specifica in particolare sulle persone che sono in qualche modo a lei più vicine non soltanto come dire fisicamente no? ecco anche se c'è anche il discorso del fisicamente abbiamo visto nelle meditazioni passate credo forse in qualche altra catechesi l'importanza cioè il beneficio che traevano dalle sofferenze di Luisa i direttori spirituali che si sono susseguiti quello che concretamente in un certo periodo di tempo gli stava vicino e questo però ci mette anche ci forma nel senso che ci aiuta anche nel nostro cammino personale a comprendere come la redenzione che è stata compiuta da Gesù attraverso la sofferenza prosegue in queste anime certamente non nel senso stretto perché c'è la redenzione in senso stretto che è stata compiuta soltanto da Gesù non è ancora un dogma di fede ma speriamo che presto lo diventi con la cooperazione unica sotto questo punto di vista della Madonna cioè la redenzione in quanto riconciliazione con Dio e riapertura del cielo quindi riacquisto della grazia questa è un'operazione che sarà già compiuta da Gesù a mio avviso con il concorso personale volontario e da Dio voluto di Maria Santissima quindi per questo merita il titolo di corredentrice in attesa che la Chiesa glielo riconosca ufficialmente però questa redenzione deve essere poi si dice così distribuita nel corso del tempo e della storia cioè deve arrivare alle singole persone con i benefici questo è il mezzo principale con cui questo si compie chiaramente la Santa Messa la Santa Messa appunto l'attualizzazione del sacrificio della croce che procura le grazie che da quel sacrificio sgorgono a chi assiste la Messa a chi la celebra e a quello per i quali vengono offerte però c'è anche questo concorso attuale perché le vittime le anime vittime la Messa di Gesù la vivono nella loro persona non semplicemente sub specie sacramenti come nella Santa Messa e quindi producono effetti analoghi cioè la distribuzione delle grazie quindi l'arrivo delle grazie il ridondo delle grazie alle persone a loro vicine o per le quali comunque il Signore vuole che siano offerte quelle sofferenze l'abbiamo visto tante volte nella meditazione l'abbiamo visto tante volte il Signore chiamava Luisa insomma a soffrire un po' per evitare insomma di dover permettere qualche sofferenza in qualche regione in qualche persona in qualche situazione quindi ci si unisce da parte di tutti noi nel nostro piccolo a questo accettando con amore le sofferenze che il Signore ci manda quindi offrendo le seconda le sue intenzioni ed anche vivendo quanto possiamo ecco lo spirito di penitenza cristiana quindi la mortificazione il digiuno insomma l'abnegazione eccetera il secondo capitolo nella prima parte molto bello no? ci riporta ancora alla purezza dell'intenzione quindi avere sempre di mira Gesù o Maria come si preferisce ricordiamo che nella consegnazione d'autostustra le pratiche interiore c'è fare tutte le cose per Maria bellissima l'immagine che Gesù usa chi fa questo è come una farfalla che mi gira continuamente intorno che gira intorno a questa fiamma e quindi dentro questa fiamma presto o tardi si brucia la farfalla quindi rimane completamente estinta e bella questa immagine a seconda delle diverse offerte che mi va facendo con il suo continuo genere intorno a me rimane tutta estinta nella fiamma del mio amore senza toccare le fiamme del purgatorio oggi è la festa di Santa Teresa Davide la Santa Teresa dice che un solo atto anche minimo fatto per puro amore di Dio il problema è che questa è la difficoltà procura una quantità smisurata di grazia di purificazione dai peccati e di gloria no? ecco formalmente opposto a questo proprio opposto è pensare a se stessi quindi fare una cosa per me perché mi conviene perché mi interessa perché mi piace il pensiero di noi stessi la preoccupazione di noi stessi certo qui mi raccomando quando si ascoltano queste meditazioni queste meditazioni sono fatte per il bene ecco vogliono essere fatte per il bene anche le parole che Gesù dice sono dette per il bene non sono dette per andare a creare complicazioni inanime che magari si portano già dietro qualche problema interiore no? ecco sono scopoloso ascoltare una cosa del genere qua comincia poi a sta a pensare che faccio 10.000 peccati dalla mattina e dalla sera no? ecco quindi bisogna sempre ricordare che omnia recipro turat modum continentis diceva già il buono Aristotele quindi tutte le cose sono ricevute a seconda del contenitore che le accogliono quindi vanno meditate queste cose in maniera seria ecco ma anche in maniera sana ed equilibrata non posso postare la giornata a dire adesso ho pensato a me stesso adesso ho fatto peccato adesso sono uscito dalla cioè non si può ecco quindi il Signore cita questa esortazione perché gradualmente certamente sollecitamente impariamo ecco ad attrarre il maggior numero di cose possibili dentro la rettitudine di intenzione quindi farlo per amore suo facendo quello che possiamo ecco e avendo anche santa pazienza con noi stessi circa i tempi di di crescere anche confidenza nel Signore che piano piano ci aiuterà a perfezionare a camminare nel bene insomma verso la santità ecco invece bisogna essere un pochino impietosi come Gesù nell'introspezione e nella distinzione tra vera e falsa virtù è qui impressionante Gesù fate gli esempi cioè io che sono un sacerdote cioè lui parla e io vedo le situazioni scorrere davanti ai miei occhi no? quindi sono situazioni davvero realissime insomma ecco perché ci stanno le virtù soprannaturali e ci stanno le virtù naturali di simpatia Gesù accenna queste cose nel Vangelo dice ma se amate quelli che vi amano ma scusate ma che merito ne avete cioè che fatica fai ad amare una persona che ti sta simpatico che ti ama nessuna e se fai fatica ad amare chi ci sta antipatico o chi non ci ama ma quella è la virtù il resto lo fanno anche i pagani quindi i pagani certamente pagano in senso stretto non possiamo affermare che c'è la grazia santificante o il battesimo o che si è fatta la comunione mezz'ora prima ecco e allora esempi avviene che si sentono una carità limitata per una persona ma se ne presento un'altra magari il più bisognoso della prima e cambia la scena si fanno di gelo o addirittura non vogliono neanche sentire parlare perché gli era fastidio soltanto che parla e la rimandano esacerbata e indispettita ecco la carità deve essere universale tendenzialmente è evidente anche qui subentra anche uno dei casi in cui è sempre bene il confronto con il confessore o con la direzione spirituale che possono esserci dei casi delle situazioni del tutto particolari del tutto contingenti che appunto per la loro eccezionalità non sfuggono a questo principio ma richiedono che questo principio sia applicato in un certo modo ecco ci sono alcune relazioni qui non serve fare troppe che devono essere troncate d'accordo ma devono essere troncate per volontà di Dio quindi è chiaro che ah mo tronco la relazione ah allora c'ho la carità finta perché so buono verso tutti tranne che con quello attenzione sempre no? ecco uno non vuole creare le scappatoie però è chiaro che anche per quanto riguarda la vita scetica la dobbiamo sempre tenere presente che i principi sono sempre generali e astratti come del resto in ogni tipo di legge sia nella legge divina anche nei comandamenti anche nella legge della chiesa anche nella legge umana e le situazioni di vita invece sono molto concrete e circostanziate ecco perché i romani dicevano summum ius summa inurian cioè nel senso che se ti fossilizzi sulla legge senza il discernimento delle circostanze quindi di andare a vedere come la norma si applica nel caso concreto c'è il rischio insomma di essere portati fuori via summum ius summa inurian significa sommo diritto somma ingiustizia quindi quando si esagera ecco il principio qui è generalissimo c'è la nostra carità deve essere tendenzialmente di apertura verso tutti a meno che ecco se uno vuole capire insomma instradare verso alcuni chiedi di discernimento non ci siano delle condizioni che rendono del tutto inopportuno o addirittura nocivo custodire o mantenere una relazione con una persona provo a fare un esempio che non è che grossolana è di più supponiamo che una persona sposata disgraziatamente incorre nel grave peccato di adulterio nel senso stretto nel senso che intesse una relazione extraconiugale ma è chiaro che se quella persona si converte per grazia di Dio si va a confessare è evidente che deve interrompere quel tipo di relazione quindi non c'è la carità universale se vuoi fai una bella preghiera per la conversione del complice o della complice nel delitto d'adulterio e dopodiché si volta la pagina questo è ecco ancora sull'ubbidienza ecco qui Gesù ci dà anche delle chiavi di lettura perché noi quando sentiamo l'ubbidienza pensiamo subito anch'io l'ubbidienza a Dio o a un superiore o a chi rappresenta il Signore ma noi ci dimentichiamo qui Gesù fa un esempio ci ubbidia tutto fino agli stessi carnefici cioè quando sono andati a legare Gesù a maltrattarlo Gesù ha ubbidito ha fatto tutto quello che dicevano e quando gli hanno detto spogliati che ti dobbiamo legare alla colonna metti i polsi così metti le polsi e lui l'ha fatto quando il cavallo gli hanno spogliato adesso stendeli sulla croce e lui l'ha fatto quindi attenzione insomma prima di sentirsi a posto con la virtù dell'ubbidienza e per cui anche l'ubbidienza è uno stile di di vita che è semplicemente imparare a posporre la nostra volontà a quella di un altro che è la quinta essenza proprio della virtù è sacrificio gratitissimo al Signore ed è uno strumento molto opportuno adeguato e adatto per vivere in una divina volontà per entrare nel regno di una divina volontà dove c'è questo continuo diciamo così adeguamento della nostra volontà che muore per far vivere solo quella divina e anche qui cioè se io sono tutto quanto ubbidiente devoto sottomesso a persona che è oggetto delle mie grazie delle mie compiacenze della mia stima o addirittura mi comporto in questo modo perché voglio ottenere la compiacenza la stima l'affetto l'approvazione della persona a cui mi mostro umile ubbidiente addirittura nel mondo ci sono dei casi che non è che l'umiltà l'ubbidienza dei casi brutti il servilismo proprio la piaggeria il come dire il voler compiacere in tutto addirittura anche nel male insomma la persona verso cui si prova un interesse o qualcosa del genere questo non questo non va bene questo non va bene ad una persona si fa ad una sottomessa si fa un cencio addirittura esistono queste cose bruttissime bruttissime e se ne vedono di queste proprio tantissime in giro specialmente quando emergono personalità leaders a tutti i livelli a tutti i livelli tutti i livelli della vita anche sociale non soltanto ecclesiale si vedono queste queste cose che Gesù non piacciono cioè l'obbedienza santa è uno stile di vita che si acquisisce si obbedisce anche a persone insignificanti insomma è del tutto come dire anonima appunto per amore di Gesù che si è fatto obbediente fino alla morte di croce che ha obbedito anche ai carnefici assumendo questo stile anche qui adesso è chiaro che se una persona perché poi lo scrupolo incombe su ogni virtù se una persona sta un direttore di un'azienda e deve dare delle disposizioni agli operai non è che si deve sentire in colpa perché non obbedisce a quello che dice l'ultimo operaio dell'azienda quindi si bati sempre a cercare di comprendere per quanto possibile invocando anche lo Spirito Santo al senso profondo delle cose che Gesù insegna ecco un'altra fattispecie che fa meno circostanziabile anzi le ultime due sono un po' meno da circostanziare insomma perché non coinvolgono diciamo così anche la relazione col prossimo che può a volte necessitare qualche chiarimento qualche adattamento dovuto alle circostanze particolari parliamo della pazienza allora uno non è paziente se dinanzi a certe cose si fa l'agnellino d'accordo non è avere anche la bocca e poi per altre contrarietà monta in furia si irrita e si imprega se no sopporto tutto ma questa situazione mi manda in bestia no sopporto tutto ma questa persona mi manda in bestia e no no perché se si paziente si paziente sempre non ci sta qualche cosa che sfugge al tuo controllo e poi c'è quell'altra cosa della preghiera un giorno uno si sente fervorosa e prega fino a trasgredire i doveri del proprio stato questo è incredibile Gesù benissimo come le persone che si piantano in chiesa dalla mattina alla sera però avendo prole consorte a cui pensare quindi si può fare ma neanche ma neanche cioè anche in monastero insomma se un monaco o una monaca ci ha affidato un lavoro quotidiano un incarico mica posso tutto il giorno a pregare trasgredendo insomma magari è stato messo in cucina non apparecchio non cucino per i miei confratelli perché oggi mi ha preso bene che devo stare tutto il giorno a pregare questo non è non è agire ordinato peggio ancora se poi il giorno dopo ti prende male ecco ti senti freddo ti contatto qualche dispiacere non ti senti fervoroso e non preghi e ci sono vari livelli cioè non prega come prima e già questo è difetto prega molto meno e già questo è più grande difetto tralascia addirittura alle preghiere obbligatorie e questo è peccato non è semplicemente difetto d'accordo dice Gesù ma io ho pregato e sudato sangue cioè non ho lasciato la preghiera in una condizione di abbandono e di desolazione interiore che pregare mi è costato un sacrificio così grosso da sudare sangue qui io capisco insomma che io mi sento ovviamente chiamato in causa da tutte quante queste provocazioni provocazioni in senso buono di di Gesù però ripeto qui bisogna mettersi nella verità perché se c'è questa situazione di alternanza le virtù non sono ancora profondamente radicate di Gesù nel suo cuore e quindi innestrate nell'anima sono radicate nelle instabilità del nostro capiamo la volontà umana purtroppo è un disastro e purtroppo in alcuni casi cioè se io ho una carità come dire particolare verso una persona grossolanamente particolare a maggior ragione che poi nei confronti di altri siano zero questo non non funziona cioè non è soltanto una virtù apparente questo è proprio un vizio questo qui quindi ecco infine vediamo la potenza del desiderio l'anima che mi desidera sempre si imbeve di me continuamente ed io sentendomi imbevuto dall'anima mi imbevo di essa in modo che dovunque mi volgo la trovo con i suoi desideri e la tocco continuamente questo ci aiuta a comprendere quanto è importante alimentare sempre nel nostro cuore il desiderio è il pensiero di Gesù si 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 Santissima Vergine Maria portaci bene dentro noi stessi io devo centrare nella verità senza preoccuparci o turbarci ma semplicemente accogliendo questi doni del Signore che ci illumina e ci parla non per farci cadere in depressione ma per spronarci e stimolarci verso il vero bene verso la vera virtù ottienici anche la liberazione dal pensiero di noi stessi noi non dobbiamo pensare a noi stessi dobbiamo pensare a te e a Gesù sapendo che a noi stessi ci pensate voi per fare questo santo patto di divino noi pensiamo ai vostri interessi e voi pensate a noi e che così possa davvero essere anzi così sia nella Divina Volontà in nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen ti benedico per aiutarti ti benedico per difenderti ti benedico per perdonarti ti benedico per ridurarti di ogni male ti benedico per consolarti ti benedico per farti santo ti benedico dunque nella Divina Volontà in nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo Amen figliati